Mi ricollego al discorso dell'intimacy coordinator che è essenziale anche per il discorso del consenso, come dire, controlla tra virgolette che intanto tutte le scene di nudo intime siano consensuali. È un coreografo, praticamente è il maestro darmi del sesso, dove le spalle sono altre, se questa possiamo usarla per il podcast. Certo, è la frase di lancio questa. Bentornate e bentornati a Super 8, il podcast di Chuck Club. Oggi sono qui con Martina Barone, critica cinematografica, e Stella Grillo, giornalista ed educatrice sessuale. Ma perché siamo qua? Siamo qua per parlare di Anora, che tra l'altro trovate già tutti quanti nelle sale italiane. Anora che, diciamo, è stato presentato al Festival di Cannes e ha vinto la Palma d'Oro. Un grandissimo risultato tra l'altro per un film a tutti gli effetti indipendente, di genere, come vedremo. E per parlare di Anora diciamo subito che prima faremo una sezione, una lunga sezione adatta a tutti, anche a chi non ha visto il film, e poi, verso la fine dell'episodio, ci addentreremo un po' di più nelle informazioni calde, nell'analisi del finale, quindi in una vera e propria sezione cum spoiler. Ma diciamo un po', di che cosa parla Anora? Chi vuol partire? Allora, di cosa parla Anora? Anora è la protagonista del film di Sean Baker che si fa chiamare Annie, ma allo stesso tempo ci sarà un personaggio che dirà ma a me piace di più Anora e questa Annie fa la sex worker, lavora in un club e come il sogno di tante sex worker, ma non solo, a un certo punto trova l'uomo della sua vita, un giovane che arriva dalla Russia, che ha tantissimi soldi e che dopo poco tempo le chiede addirittura di sposarla. Ovviamente non è tutto oro ciò che luccica e da qui parte l'avventura reale di una che considero e penso possiamo iniziare già a considerare tra le personagge, non dico più importanti ma quasi, degli ultimi anni a livello femminile del cinema mondiale. Sì, ma anche perché è tra l'altro uno dei film dell'anno senza ombra di dubbio, ma Anora appunto è questa sorta di romcom comunque inedita, molto particolare, che ha al centro una sex worker e che ha al centro comunque una sessualità piuttosto smaccata. Però, come sappiamo, nel cinema contemporaneo il tema della sessualità viene tante volte schivato, no Stella? Cioè è uno di quegli argomenti che si fa fatica a portare avanti anche per l'approccio della Gen Z che è un po' diverso rispetto alle generazioni precedenti. Sì, sì, che è un po' un paradosso della nostra contemporaneità. Cerchiamo di sfatare tanti tabù sul tema della sessualità, del corpo, della consapevolezza femminile che in questo film è davvero impressionante ed è bellissimo il modo in cui è stata rappresentata e lo vedremo. però nel cinema oggettivamente troviamo sempre meno scene di sesso. Metti il politically correct, insomma tutta una serie di dinamiche che forse stanno portando a vedere meno scene di sesso ma dall'altra parte la generazione Z che è sicuramente la generazione che si sta trovando meno scene esplicite nel cinema in realtà poi ha un contatto con la serialità ma anche con la letteratura per non parlare con il mondo digitale della pornografia molto, come dire, molto attivo con il sesso. Quindi c'è, secondo me, anche un po' un paradosso. Sì, un cortocircuito nel modo in cui vogliamo parlare di sessualità abbiamo bisogno di, ripeto, sfatare tanti miti e tanti tabù però nel cinema ancora questa cosa, anzi oggi questa cosa non viene rappresentata al massimo. Devo dire che con Anora finalmente abbiamo davanti devo dire anche un bel sesso una rappresentazione molto sana del sesso e della sessualità e del corpo femminile. Ma anche perché, come dicevamo appunto nel cinema contemporaneo ci sono vari casi, no? Anche quest'anno anche nei film in cui la sessualità sembra presente tante volte comunque è solo sfiorata è un film estremamente erotico ma in cui non viene messo in scena mi viene in mente Challengers che comunque ha centrale il tema della sessualità ma non viene mai sostanzialmente esplicitato. In Anora invece le cose vanno estremamente differenti fin dai titoli di coda, fin dalle primissime immagini che appaiono, i nudi ci sono, il corpo della donna viene mostrato ma viene mostrato però in una maniera... alla Sean Baker diciamo, sì. Che è totalmente un mondo a parte come mi piace ripetere è l'unico uomo a cui concedo di partire con una carrellata sui sederi femminili senza dovermi sentire a distanza o infastidita perché c'è un amore in quella ripresa che fa parte proprio del suo trascorso. Lui ha detto che non voleva fare di questa sua poetica per forza ha un tratto distintivo sono le storie che lo hanno incuriosito che gli hanno parlato e che quindi lo hanno portato da una starlet che parliamo 2012 a poi un Tangerine, The Florida Project un Red Rocket che ti vede invece la versione maschile di un sex worker in quel caso di un porno divo di un ex porno divo e quindi è un uomo che vuole bene a questi corpi e quindi non è sorprendente trovare quel discorso che faceva Stella proprio sulla sessualità c'è uno studio dell'Economist che dice che dal 2000 ad oggi c'è stato quasi un calo del 40% delle scene di sesso in un mondo come Hollywood tra l'altro dove invece Marilyn Monroe diceva ti danno mille dollari per un bacio ma solo 50 centesimi per la tua anima quindi praticamente totalmente da un opposto all'altro ma credo che sia anche una questione perché proprio in riferimento a Sean Baker c'è una maniera che non è più fastidiosa nel vedere quel tipo di Mel Gates cioè quello sguardo maschile che per tanto tempo ha caratterizzato la regia il modo di guardare le inquadrature quando io guardo Sean Baker che fa quella carrellata iniziale dove i titoli di coda a un certo punto sono totalmente concentrati su questa personaggia che si struscia sostanzialmente su un cliente sta lavorando sta lavorando trovo una gioia trovo un rispetto e trovo anche un affetto che in altri registi è difficile trovare mi dicevate anche che ci sono state anche evitate tra virgolette delle precauzioni che invece in altri set sono necessarie proprio perché c'era una fiducia da parte di Mickey Madison nei confronti di Sean Baker se volete raccontarmi questo aneddoto che è molto interessante che non aveva voluto nel momento in cui lei è stato chiesto di avere un intimacy coordinator quindi un coordinatore dell'intimità che è diventato una figura fondamentale e infatti secondo me qua bisogna anche fare attenzione non è perché l'attrice protagonista non l'ha voluto allora poi tutte le altre attrici che lo vogliono gli attori che lo vogliono non sono spontanei anzi bisogna lavorare così perché prima non c'erano no è una figura essenziale ma proprio perché Sean Baker ha una professionalità tale e soprattutto una conoscenza tale dell'argomento che lei ha detto io mi sento sicura mi sono affidata alle sue mani ed è venuto tutto molto naturale ripeto anche con coordinatore della sessualità dell'intimità viene tutto naturale perché ricordiamo stanno comunque recitando ma penso che e questo è un argomento che secondo me Stella riesce anche a spiegarci meglio credo che anche la questione della generazione Z e del fatto che i prodotti ormai cerchino quasi di evitare sia forse il fatto che abbiamo bisogno che se il sesso venga rappresentato debba essere rappresentato con questo tipo di rispetto perché comunque quel calo è dovuto anche al fatto che molte volte un tipo di sguardo di sessualità era anche inserito semplicemente perché era prassi farlo forse le nuove generazioni non hanno voglia o bisogno che ci sia qualcosa di gratuito pensiamo a come siamo cresciuti con quelle sitcom che parlavano ogni puntata di sesso ogni puntata di che tipo di atteggiamento avere per riuscire ad attirare lo sguardo o anche la divulge della lista del tuo nome la divulge della lista con cui siamo cresciuti forse la ricerca è poterne parlare ma con una nuova sensibilità pensiamo a un baby girl che dovrà uscire con Nicole Kidman e Harris Dickinson che anche lì il sesso c'è ma sfido a dire che sia un sesso come ne abbiamo visto nei prodotti degli anni precedenti l'ansi si parla proprio di una sorta di kink che qualcuno può avere e quindi secondo me forse c'è questa maggiore esplorazione ma guarda mi ricollego al discorso dell'intimacy coordinator che è essenziale anche per il discorso del consenso che finalmente spieghiamo un attimo effettivamente il ruolo di questa figura sul set per dare delle coordinate l'intimacy coordinator sul set come dire controlla tra virgolette che intanto tutte le scene di nudo intime siano consensuali perché poi dopo il Me Too dopo tutta una serie di ovviamente denunce movimenti che sappiamo e che non andiamo ad approfondire ora gli stessi attori e le stesse attrici richiedono una tutela ovviamente sul consenso importante sul set quindi è una figura essenziale e permette anche da mediatore mediatrice tra attori attrici registi e registe per una rappresentazione del corpo del nudo come dire rispettosa il fatto che in questo film non ci sia stata un intimacy coordinator testimonia quanto insomma gli stessi attori e le attrici si siano sentite è un coreografo praticamente il maestro darmi del sesso dove le spalle sono altre se questa possiamo usarla per il podcast ma è la frase di lancio questa tra l'altro Challengers ha avuto un coordinatore dell'intimità che è assurdo perché come dicevi tu non si arriva mai all'atto e anzi probabilmente l'eroticità che sentiamo nel film nasce proprio dal fatto non compiuto però sfido chiunque a non considerarlo anche quello e comunque Zendaya ha raccontato che loro sul set avevano questa figura di riferimento e secondo me la differenza che è Fashion Baker è proprio questa il senso prima di tutto è comunque un regista esterno a Hollywood che per quanto si stia arrivando in tutto il mondo comunque è fermamente indipendente nei mezzi e nei toni che utilizza e in più c'è un tipo di realismo e di sensibilità che mostra che gli permette di essere uno di quelli che dicono vabbè a te va bene tutto perché effettivamente hai già un curriculum in cui hai trattato determinati temi hai trattato anche determinate persone nel senso Simon Rex di Red Rocket c'era anche una vicenda personale a inizio carriera in Tangerine non ne parliamo nel senso quello era ultra realistico e che aveva tutti i film di showmaker hanno in realtà anche un linguaggio semi documentaristico in alcune piccolissime parti senza però evitare di divertirsi e a proposito di realtà e realismo arriviamo anche alla figura di Anora nel senso di figura professionale lei è una sex worker nel cinema nelle serie tv è una figura che comunque è stata rappresentata tante volte però forse mai così il film a cui almeno i primi 20 minuti Anora assomiglia di più per via della vicenda è Pretty Woman che aveva appunto una sex worker interpretata da Julia Roberts come protagonista aveva un uomo che effettivamente le permetteva di lasciare quel tipo di condizione inizialmente per motivi appunto di uno scambio professionale ma poi nasceva effettivamente una storia d'amore per una delle più classiche delle rom-com in cos'è che effettivamente Anora differisce io direi intanto lo sguardo giudicante che c'è proprio all'interno del film insomma Pretty Woman in qualche modo lo ricordiamo tutti e tutte quasi a memoria perché è famoso non mi sembrava era sfuggita questo particolare ma in Anora è proprio citato cioè ci sono delle citazioni di Pretty Woman ci sono delle scenette quasi riprese per filo e per segno ma in Pretty Woman troviamo proprio il giudizio la scena in cui Leva a comprare i vestiti con ancora il vestito da sex worker che portava Beverly Hills e viene rifiutata viene cacciata via è proprio come dire l'emblema del giudizio e dello sguardo anche tra donne perché erano tutte donne quelle che ci sono diverse poi cose che come dire calcano proprio lo sguardo giudicante dentro Pretty Woman e noi stessi anche ci mettiamo in una condizione un pochino ovviamente negli anni 90 è uscito quindi dobbiamo contestualizzare giudicante sempre poi alla fine infatti c'è il principe azzurro che salva lei c'è questa questo cliché in Anora non c'è questo sguardo giudicante interno c'è nessuno né tra di loro né gli uomini né gli amici insomma del protagonista giudicano il suo lavoro e la sua figura e per tutto quello che abbiamo detto fino ad ora proprio per la rappresentazione realistica sana consensuale e per il personaggio anche che sicuramente è anche molto più secondo me sicura e molto più consapevole rispetto a Julia Roberts che ripeto viene anche da un altro contesto proprio sociale e culturale non ci troviamo mai nella condizione di giudicare quello che succede cioè ci sembra tutto molto naturale quindi questa cosa secondo me come dire rende molto differenti i due film ovviamente come ben sappiamo i primi 20 minuti assomigliano ci sono le citazioni di Pretty Woman poi dopo le cose cambiano quindi è ovvio che la differenza sta anche nel modo in cui questa salvezza in realtà avviene e non avviene in Pretty Woman finisce con entrambi che si salvano a vicenda con una carrozza non l'ho visto come dicevo prima ma mi pare finisca con una limousine con una limousine che è la carrozza degli anni 90 anche perché alla fine è una versione di Cenerentola assolutamente ma Cenerentola viene proprio citata cioè anche in Anora lei dice io voglio è come Cenerentola esattamente ma perché Cenerentola non è nemmeno la migliore delle vinci di essere Disney ma questa è un'altra puntata ma perché Cenerentola in realtà lei lava i pavimenti della famiglia l'ascensore sociale capito comunque l'ascensore sociale lei viene salvata da un uomo e alla fine chi principe azzurro più di Richard Gere questo in realtà sarebbe il topic forse azzurro di Shrek ma neanche ma neanche vorrei ricordarti di Richard Gere che arriva a LA con quell'abito cioè ma anche qui ovviamente Anora è il party woman del 2024 2025 sostituisce l'uomo di Wall Street con in giacca e cravatta con l'oligarca russo il figlio di un oligarca ventenne russo ventenne che non mette la maglietta sotto la felpa lui aveva il completo Richard Gere lui non si veste neanche all'edonismo più totale al vizio più totale viene rappresentata anche una gioventù come dire nello sfarzo ripeto più totale è una rappresentazione di ricchezza diversa ovviamente quindi anche in questo ripeto contesti culture e società completamente diverse però è interessante ripeto secondo me proprio il modo in cui la sex worker a un certo punto non viene salvata dal principe azzurro e da comunque uno sguardo abbastanza sessista dell'uomo che salva la donna dell'uomo ricco che salva la donna che viene dalla strada qui in qualche modo secondo me c'è anche proprio un riscatto e ripeto dipende almeno per il mio punto di vista anche dalla forte consapevolezza e consenso che Ani e Anora ha di se stessa e del proprio lavoro a un certo punto sì salvata penso di potermi salvare penso che questo sia il mio riscatto ma grazie agli strumenti che ho qualcosa cambia anche perché ad esempio forse uno sguardo giudicante c'è in determinati personaggi ma per forza di cose che accadono all'interno del film ma l'importante è come lei non vuole essere nominata perché le parole sono importanti perché la maniera in cui tu mi riconosci e mi nomini è importante la consapevolezza che è una cosa che per esempio al cinema è mancato perché anche altri personaggi pensiamo a uno striptease con Demi Moore metà anni 90 mi sembra 1996 e che è stato anche lì c'era il fatto che lei non voleva essere chiamata una stripper ma una dancer perché lei lei faceva la ballerina ovviamente si spogliava però c'era quel tipo di lavoro quindi tu comunque devi riconoscermi in quanto lavoratrice onesta perché io devo avere dei soldi per mantenere mia figlia in quel caso nel film ma allo stesso tempo il fatto che il personaggio provasse un senso di colpa cosa che invece in Anora non sussiste ed è qui la modernità anche di un regista e di un autore come Sean Baker ed anche il fatto che proprio per questa modernità e questa presa di consapevolezza Anora ti va a vincere la palma d'oro anche per tanti altri motivi e Striptease è stato l'inizio di un arresto di carriera per Demi Moore invece Striptease è una mezza tozzeria narrativamente cioè quell'ultima sequenza finale Gianni e Pinotto sembrava però il fatto proprio che nella scelta anche di come veniva rappresentata anche per questo suo esporsi particolarmente a parte Resi Award che ha vinto il film è stato un arresto mentre speriamo che per Mickey Maddison possa essere addirittura un trampolino di lancio ancor più di quanto già non abbia cominciato nella sua carriera ecco veniamo appunto a Mickey Maddison e a Danora Mickey Maddison inizia la sua carriera comunque nel 2016 con Better Things che è questa serie comedy mega famosa negli Stati Uniti scritta tra gli altri da Louis C.K. arriva però alla super popolarità almeno qui in Italia con il suo ruolo in Once Upon a Time in Hollywood tra l'altro Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood aveva fatto incetta della nuova generazione c'era Mickey Maddison Sidney Swinney Austin Butler Margaret Qualley Maya Hook che poi se ne va Maya Hook tutti condensati in microscene praticamente tranne Austin Butler che era un po' più larve e anche Margaret Qualley un po' c'era un paio di scene a testa eppure ha lanciato sostanzialmente la nuova generazione che sta dominando ora e Mickey Maddison dopo quel film fa un ruolo importante comunque in Scream 5 beh era non per fare spoiler ma caduto in prescrizione ragazzi la villain la villain di Scream 5 rinominato Scream è tolto il 5 ma vabbè ma arriva diciamo al vero alla chiamata con la storia al vero passo da gigante qui con Anora vedo che Better Things sia anche un punto importante da cui partire perché una cosa che poi esploreremo meglio è anche la comicità di Anora che fa super ridere che fa super ridere secondo me la cosa inaspettata è la sex worker che cerca la storia d'amore ragazzi andate a vedere Anora perché vi scompisciate dalle risate è la scena più divertente degli ultimi 5 anni sì sì anche più sorprendente più sorprendente perché è un escanello è un film che ti cambia toni almeno 3 volte almeno 3 volte inizio centro e fine sono 3 film diversi tutti incredibili e Better Things ha quel tipo di comicità quel tipo di comicità che non è dovuto dalla battuta ma dall'atteggiamento ma dal modo di essere ma da da quella battuta più sottile anche magari più argura la creazione del contesto esatto che è molto che Annie ha e lei è totalmente accentratrice in questo senso c'è la frase centrale di Anora che è al centro del film in cui a un certo punto chiedono what's happened cosa è successo she happened lei lei è successa lei è sia protagonista che motore della storia tante volte le vicende dei protagonisti al cinema vengono messi in moto appunto da Deus Ex Machina motori McGuffin cioè cose che servono a far andare avanti la narrativa qui la roba incredibile è che ok la proposta che le arriva è un motore narrativo ma è l'unico cioè da lì in poi il vero motore narrativo è lei che fa cose o a cui succedono cose ma è comunque centralissima da lì chiaramente il titolo del film e quant'altro allora prima di aprire la parte spoiler se doveste consigliare a uno spettatore che non sa niente di Anora il motivo per cui andarla a vedere vai quale sarebbe vai no inizia tu sì come a scuola intanto perché è un film dove c'è una storia d'amore ma è divertente scoprire dove è indirizzato questo amore ok perché fa incredibilmente ridere come abbiamo ripetuto e prende da quel filone delle romcom che è un genere che permette di contaminarsi con tante altre sfumature e come dicevamo in precedenza questo addirittura arriva nel mezzo mentre all'inizio e alla fine sembrano ancora altri film che però comunicano tutti insieme e per rimanere spiazzati da un finale di cui vorrete sicuramente parlare allora io oltre ad essere d'accordo con tutto quello che ha detto Martina aggiungo due cose visto che sono fortemente convinta del fatto che l'arte in particolar modo il cinema ci faccia molto da effetto specchio si è in grado di farci riflettere letteralmente su tanti su tanti temi credo che questo film ci permetta intanto di captare tutti i cliché che ci sono sul tema sulla sessualità sul corpo sulle relazioni sul sessismo e ce li smonti cioè ci permetta davvero di attuare questa riflessione e poi perché è un film che secondo me ci fa anche mettere davanti allo specchio per quanto riguarda le diverse sfumature emotive che possono esserci in queste circostanze e nei personaggi è un film che abbraccia la complessità umana c'è infatti la parte animalesca c'è la parte divertente c'è l'amore c'è la parte sessuale nuda e cruda ripeto anche qui letteralmente c'è la parte emotiva c'è la delusione è un film sulla complessità secondo me aspetto che abbiamo un po' dimenticato sia nel quotidiano nella vita nelle relazioni e anche in qualche modo nella rappresentazione artistica anche cinematografica quindi oltre a quello che ha detto lei questo effetto specchio di riflessione e di come dire nuova prospettiva è un grande aspetto importante del cinema ma poi lo vogliamo dire che tutti dovrebbero conoscere Sean Baker tutti fa proprio bene all'anima conoscere Sean Baker migliora le persone conosciamoci migliora le persone sì migliora le persone conosciamoci vediamoci io mi sento migliore quando guardo un film di Sean Baker totalmente anche quando è tragico soprattutto soprattutto quando è tragico ma soprattutto perché hai detto che tutti con il finale avremmo voglia di parlare e questa è una cosa bellissima cioè noi ci siamo ritrovati ci stiamo ritrovando a parlare e abbiamo sicuramente dentro altre 300.000 cose da voler dire e questo è bellissimo e quindi apriamo la fase in cui possiamo dirle possiamo dirlo apriamo ufficialmente la fase spoiler da qui in poi chi c'è c'è chi non c'è non c'è partiamo vi pongo lì alcune spunti che mi sono segnato durante i vostri interventi allora quando? mentalmente col sangue e allora lato sessualità andando a chiuderla appunto cioè la sessualità all'interno del film è affrontata in molte maniere l'abbiamo detto affrontata in maniera molto rispettosa però il film apre anche a quando la sessualità oppure il terrore il pericolo viene percepito specialmente in quella sequenza centrale che fa mega ridere c'è però appunto tra gli alti e bassi di quella sequenza un momento in cui si teme effettivamente che le cose possono andare male che possa accadere una molestia e che possa anche avvenire uno stupro a tutti gli effetti come gestisce secondo voi Sean Baker questa cosa questo su e giù continuo e perché? quello che insomma ho detto prima sullo smontare i cliché c'è questa scena in cui questo personaggio davvero molto interessante pieno di sfaccettazioni durante anche questo complesso Igor si trova da solo nella stanza con con Annie e anche qui c'è una piccola citazione di Pretty Woman io almeno l'ho un po' accolta nel momento in cui Julia Roberts si trova da sola con l'avvocato di Richard Gere l'avvocato insomma le mette le mani addosso quindi cerca di stuprarla nel momento in cui Igor si trova da sola con Annie almeno io la percezione che ho da donna della cosa tanto va sempre a finire così purtroppo quindi questo ci mette ci fa riflettere su quanto partiamo prevenute o prevenuti pensiamo che Igor prima o poi le metta le mani addosso comunque si faccia qualcosa perché c'è questo sembra proprio un cliché la rappresentazione di un cliché l'atmosfera va in quella direzione sembra sì sì ma lo sguardo il modo in cui lei starà annicchiata quasi spaventata sul divano e poi non succede non solo lui le fa le congratulazioni del matrimonio e lì si rompe proprio tutto tu guardi Vicarico e dici ecco qui adesso succede il patatrack era lì dietro l'angolo dietro l'angolo e poi in realtà lui con uno sguardo dolcissimo tenerissimo timido dice ah congratulazioni no aspetta quindi quindi non succede è anche un po' uno schiaffo se vuoi è uno schiaffo e lei dopo alla fine del film glielo dice io ero convinta che tu mi avresti stuporata sì io penso che tu l'avresti fatto e invece no quindi in realtà conferma quella percezione che potevamo avere quindi molto bene molto interessante ma tra l'altro appunto due cose hai recitato Pretty Woman ed è mega interessante appunto che l'amico di Richard Gere davanti a Julia Roberts ci provi mentre in Anora succedono due cose molto distinte che è proprio generazionale anche gli amici diciamo del ragazzo che poi sposa di Ivan non la giudicano ma non viene mai menzionato che lei sia lì per soia è la escort di ma poi ci passa nel tempo tranquillamente ma quando sono per esempio a Las Vegas che si divertono tutti insieme non esiste niente dopo che si sposano e che lei va a fare il giro per cercare lui niente lei viene trattata come sua moglie con un'amica di tutti diverso è il trattamento della famiglia di lui che invece utilizza appunto i termini legati a escort prostitute eccetera che lei ribadisce che no io non non faccio quel mestiere lì è proprio un'altra cosa con termini molto coloriti sulle madri degli altri tra l'altro comunque lei ci tiene al suo punto anche perché Anora è un film che finalmente è sanamente volgare cioè nel linguaggio delle persone comuni parlano così quello che noi non utilizziamo in questo podcast aggiungiamo anche che in questo caso le figure femminili sono anche quelle più centrali centrali e anche crude cioè insomma sono quelle che sia fisicamente che verbalmente è totalmente matriarcare il marito è lì fa cose ride giudica ma nemmeno giudica non è un giudizio quel luogo anzi si diverte a vedere le due donne Anora e la madre di Ivan che si scontrano Galina comunque come nome ma vabbè prima però ha introdotto il il co-protagonista di questa storia no sono totalmente incentrata su Anora non vogliono togliere dello spazio tant'è che Igor che poi andando avanti col film prenderà una sua dimensione sfaccettata eccetera proprio per permettere ad Anora di rimanere sempre centrale per il primo quarto d'ora le sue azioni avvengono in secondo piano c'è un gioco sul secondo piano che non ha c'è un altro film che è su Igor sullo sfondo questo vuol dire che dovete andare due volte a vedere Anora la prima per guardare davanti la seconda per guardare dietro sì che è anche detta così vabbè Igor però appunto ha questa introduzione stellare nel senso Igor è un secondino mandato lì sostanzialmente per controllare Anora e per dare la caccia poi a Ivan affinché si possa sciogliere questo diamine di matrimonio e Igor appunto in tutta questa prima fase ha un ruolo ambiguo e poi si rivela in realtà come tra virgolette il buono del film nel senso la figura che più le mostra rispetto nella famiglia di Ivan tra l'altro altra grande citazione Igor che nome è di solito Igor alla gobba forse dovevamo chiamarlo Igor ma questo è un altro film però intanto partiamo dal fatto che Yuri Borisov arriva già da un altro film sentimentale molto diverso che è scompartimento numero 6 quindi si porta un po' questo carico romantico anche questa malinconia questa malinconia infatti è lo sguardo con cui guarda Annie a Nora che sarà lui poi che abbiamo detto che le parole sono importanti è lui che ti dà importanza da Nora al nome perché in America loro non ci badano non è importante cosa significa il tuo nome invece lui dice a Nora vuol dire splendente un bel nome questa differenza appunto di culture tra la cultura classica comunque europea in tutte le sue sfaccettature è quella più pop e immediata tiktoktabile americana e quindi come dici si porta dietro questa malinconia bellissima la riflessione sul fatto che lui è sempre in secondo piano rispetto alle azioni da Nora ma è un piacere guardarlo perché fa veramente delle cose senza senso quando mangia i pochi quando gioca con la maccia è incredibile e secondo me questo porta anche su un aspetto che potendo parlare perché possiamo fare spoiler ributta anche una certa luce sul personaggio di Ivan perché quello è un esempio di mascolinità problematica ma anche comprensibile cioè lui è questo ragazzo che cerca di scappare dalla propria dalla famiglia dalla famiglia da quelle restrizioni che ha tantissimi soldi che può fare quello che vuole e ovviamente tu alla fine del film lo odi e quindi nonostante sia un film dove non si giudica mai è anche una riflessione su come se si è arrivata su una certa riflessione una certa maturità anche da parte di un autore come Sean Baker di poter trattare di determinati temi di come ci siano ancora elementi come Ivan che in verità hanno bisogno per cultura per famiglia in cui cresci di di non giocare solamente perché ne hai la possibilità ma di riflettere un po' di più per esempio sul finale tra l'altro lui viene considerato il Timothée Chalamet russo questo è un piccolo sì sì l'ho visto un reel in cui diceva sto chiedendo in giro dov'è Timothée che lo voglio conoscere sì perché viene accumunato penso dal capello fluente ma un tipo in realtà di fisicità di muscolinità abbiamo visto perché aveva solo la felpa non aveva sempre per quel motivo non aveva la maglietta e quindi è interessante perché è un personaggio che ovviamente tu alla fine arrivi a a di guarda questo ragazzino ma allo stesso tempo guardando quel tipo di famiglia quel tipo di retaggio è tutto molto spiegabile e quindi ovviamente non lo puoi perdonare non lo perdoni ma di come ci sia ancora da lavorare perché se a Nora è l'altro aspetto sia guarda a che punto di maturità siamo arrivati dall'altro c'è ancora che ci deve lavorare guarda quanto lavoro bisogna ancora fare ma allo stesso modo secondo me comunque Sean Baker che esprime comunque un giudizio su Ivan però è un giudizio tenue cioè nel senso c'è una scena in particolare che a me è ricordato molto quando vengono mostrate persone in stato di depressione col partner che prova a parlarci e non ha risposta la scena lì della limousine che comunque vede Igor dietro in mezzo che tra l'altro li rispetta cerca di di stare dietro proprio perché lui è la bussola morale del rispetto di questo film qui lì secondo me c'è un tentativo di dirti lui ha sbagliato tutto e probabilmente continuerà a sbagliare tutto ma non è facile neanche per lui cioè comunque vive male anche lui e questo secondo me è molto interessante perché tante volte in film che portano avanti anche tesi sacrosante a volte manca tridimensionalità negli altri personaggi tutti i maschi sono imbecilli a prescindere qui invece c'è un errore che va punito va pagato ma c'è comunque una descrizione più tridimensionale e venendo invece al lato finale prima di chiudere due scene principali nel finale Igor che effettivamente durante in sede di divorzi di annullamento anzi di matrimonio si alza e chiede delle scuse per Anora per quello che ha subito nell'arco di quelle 48 ore di quelle due settimane in base a che time time la imprendiamo e l'altra invece è il finale vero proprio ditemi la vostra dai allora sul discorso delle scuse hai detto benissimo fino ad ora lui è proprio la bussola morale del rispetto e dice quello che in qualche modo tutti e tutte pensiamo dalle poltroncine della sala del cinema cioè cavolo qualcuno le chieda scusa perché poi la percezione è proprio questa emotiva per questo parlavo di specchio emotivo e sì sicuramente contestualizza Ivan in questo senso e la sua famiglia il finale ancora lo sto metabolizzando sinceramente diciamo il finale è una scena ambientata nell'auto di Igor dove Igor semplicemente riporta Nora a casa sua quindi finito il sogno gli fa vedere che in realtà l'anello con cui si era sposata lui è riuscito insomma a trafugarlo non è una limousine ma è una macchina di una nonna una macchina della nonna non più la bella carrozza e a Nora sostanzialmente per ringraziarlo sì sì cerca di far sesso su lui esatto lei mette a disposizione l'arma più importante potente che pensa di avere che in quel momento ha che è appunto il suo corpo lui è stunnatissimo capisce più niente non lo concepisce quasi non capisce lei tira giù il sedile della macchina lui rimbalza questo esatto questo testimonia la rigidità del personaggio dell'attore in quel momento è lei che mette le sue mani sul suo sedere quindi lui è completamente quando c'è la scena in cui dice metti le mani sotto esatto perché sempre sul tema del consenso quindi questa cosa è estremamente interessante il modo in cui lei utilizzi l'unico strumento che ha è come se lei sappia comunicare solo in un determinato modo in quel modo e lo fa ripeto con estrema consapevolezza estremo consenso quindi non c'è mai è la sua corazza in realtà sì è anche un'arma in qualche modo di difesa nel momento in cui lui cerca di approcciare emotivamente con un bacio e cerca di avvicinarsi esatto lì la corazza crolla cioè lei mette si mette anche qui a nudo ma emotivamente e secondo me almeno visto in lingua originale c'è questo pianto finale col motore dell'auto sotto col motore dell'auto sotto che continua per tutti i titoli di coda e che è incredibile e ripeto ci dà quella complessità poi alla fine del personaggio di Anora e anche di Igor che mette insieme la forza la consapevolezza delle proprie armi del capire la capacità di capire in che momento si sta e poi la capacità di mettersi a nudo emotivamente secondo me questa tridimensionalità del personaggio alla fine proprio esplode ma va metabolizzato la cosa bella che appunto ti dovrebbe rimanere di un film fatto così bene è proprio un finale che più passano i giorni quasi più prende forme diverse dentro di me sfumature emotive Martina ascolta Seanora è uno dei film dell'anno il finale è il finale dell'anno è uno dei finali dell'anno e racchiude l'operazione di Anora del film e soprattutto della Palma d'Oro una Palma d'Oro molto coraggiosa perché il film lavora di una confezione più pop e che permette di poter parlare a un largo pubblico ma al contempo non perde quei tocchi di autore che si ritrovano tutti in quella sequenza bene allora io ringrazio Martina Barone Stella Grillo per essere stati qui con me grazie mille è stato divertentissimo invito i nostri ascoltatori a farci sapere comunque la loro su Anora appena l'avranno visto anche solo sulle aspettative che hanno e noi ci vediamo al prossimo episodio di Super 8 il podcast di Chuck Lab di Super 8